è stato un amico un contro uno, allora? tutto a posto, è stato in ferie, dice se sei benissimo ma tu moglie cucina bene? no, mi moglie è una favola, un po' capire magnate che mi faccio dice invece la tua? la mia ti fa dei piatti che si sciolgono in bocca dice ammazza è brava a cucinare, dice no no, ti tira fuori dal congelatore e ti fa sciogliere in bocca